Non più ritorno Attraverso Orietta, Guida L'entità manifestatasi ieri sera è un grande maestro. Volendomi attenere alla gerarchia di questa dimensione e per meglio farvi comprendere, aggiungo che ella dimora appena al di sotto del livello del non più ritorno, livello assegnato agli spiriti dell'ultimo cielo, i venerabili. Non tutti fra noi sanno prospettare fedelmente e rendere chiari i concetti della scala evolutiva né altri concetti talvolta addirittura diametralmente opposti. E non mi stancherò mai di ribadire la necessità da parte vostra di ben vagliare gli insegnamenti avanti di accettarli. Per fare un esempio vi dico che molte entità negano la reincarnazione poiché ciascuna non può che trasmettervi ciò che è insito nella sua conoscenza destinata comunque a raffinarsi ed ampliarsi mano a mano che ella procede nell'evoluzione. Gli insegnamenti quindi sono strettamente dipendenti dal grado di tale evoluzione e dai residui di ideologie umane che inevitabilmente contaminano la mente spirituale finché non si giungerà alla purificazione e cioè alla neutralità assoluta. A questo punto vi domanderete perché entità ancora ignoranti possano manifestarsi indottrinando erroneamente? Rispondo perché anche questo ruolo è del tutto arbitrario e facente parte delle varie esperienze a nostra disposizione soprattutto per indottrinare noi stessi. Quando infatti queste entità si saranno ulteriormente evolute non si esimeranno dal dovere di correggersi con tutta umiltà e mi riferisco ad errori concettuali commessi in assoluta buona fede e non ai vaneggiamenti mirati degli spiriti poco evoluti. Continua.